Ciao Mitzio! Ciao Mitzio! Ciao ragazzi! Come va? Come va? Tutto ok? 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 Siamo quanta che ne so? Eh sì, dimmi! Mi sconto qualche d'una? Per chi non ti conoscesse appunto la tua specialità? Le scontare le barzalette per me scontare le cose fare da ridere! Vediamo se ci riesci, finora è veramente uno spettacolo, sì, che è un Parkinson. Che hai due tipi sentati fuori da un bar, no? Sì? Senta dove è? Senta fuori da un bar, sì, ok. E uno che dice a quell'altro? Che dice? Giannarnando, se io sarei il sindaco sistemerei le buche delle strade. Ah però? Fossi? Eh sì sì, anche i fossi. E dopo no, sempre le ore di un bar, cambiando discorso, che fa? Sento Giannarnando, una volta leggetti un libro su Rintintin. Ha detto, lei sì? No, no, lei era proprio Rintintin. Sono sicuro! Sempre loro, no? Ma ricambiamo il discorso, no? Ancora? Ancora loro. E ha detto, oh, mi muoio la ciappa una multa perché andava a 160 l'ora con la 500. Urca! Che la vaca! 160 l'ora con la 500? Ma lei era truccata? No, no, un po' di fardo. Se io mi muoio, no? Per l'agitazione non c'è niente la febbre, che ha detto. A dire il suo, no? Allora, se tu fai, ma c'è male il dottor? Pronto dottor Giannarnarco? Sì! Che mi muoio, che c'è la febbre? Eh! Se io mi muoio, è l'alta? Ma che la sarà 1,60 con i tacchi? Comunque, insomma, dopo l'estate a me, ho detto, sempre il suo amico. E se vi fai, siamo andati a fare, insomma, un po' di scioping, no? Sì, scioping! A fare un po' di scioping, no? Eh, ho capito, dillo, va avanti! E insomma, a fare un po' di scioping, si prende una camisa, ho detto. Allora, secondo te, mi ingrassi la sta camisa qua? E ho detto, perché che trova? Allora! Rappatini! Rappatazzi! È sempre lui che fa, no? Sento Giannarnaldo, anche a me sono un po' pericolato, insomma, mi piace correre in macchina, no? Allora, l'altro ieri, no? Sento quando? Sì! L'altro ieri, no? Era uno che andava piano, andava piano, sona, 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 a un certo punto lo supera, no? Sì! Lo supero e me l'ho ricatto, però a fianco al semafero. E ti rasò il finestre, e mi ha detto, se ti è messo ancora ti spacco i coni, e mi muoio la gaita, e mica li farò un'altra volta! Ma ricambiando discorso un'altra volta, sempre l'ora di uno, no? Sento Giannarnaldo, ieri sono andato al barbier, no? Sì! E il barbier mi fa, i capelli come li volo? Indrio? No, no, c'è l'età! Rappatini! Rappatazzi! No, ok, uno no? Che va in te negozio dei telefoni, no? Sento dove va? In te negozio dei telefoni! Che pagiorno signorina, vorrei un telefonino! E la modello? No, no, fu il curatore! Rappatini! Però grazie del complimento ha detto, anche io non è niente male! Pepe sale! Con la coda di maiale! Sì, immagino, immagino! Rappatini! Rappatazzi! No, no! Se va al parchetto col cà! Eh! Ma sento dove va? Al parchetto col cà! Si, mi hai capito! E se ferma un tipo e che fa? Che bel cà che cà! Ah là no! E fa, beh, pa cà che cà! Rappatini! 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 Ora no, che un signor, no? Sì! Sento dove le porta? Sì, abbiamo capito! Sì, abbiamo capito! E l'infermiera e fa, buongiorno, fa, lei è nuovo! E allora ha detto, sono vecchio, sennò sarei mia qua! Rappatini! E' un tipo, no? Sì! E' un ristorante, no? Sì! Sento dove l'è? E' un ristorante! E' quello che ho fermato adesso! E va lì il campionale che fa! Come ha trovato la bistecca? Ha detto, par caso! Ho spostato la motta delle patatine e l'era di sotto! Rappatini! Mi sconto l'ultima! Sì, vai! E' uno che va dal dottore! Sì! Sento dove va! Dal dottore! Sì! E va dal dottore che fa! Oh, vedo che oggi tossisce molto meglio di ieri! Ho sbaglio! Eh, per forza! Mi sono allenato tutta la notte! Vicio grandissimo! Guarda! In collaborazione con AutoZai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno. Gruppo Kairos. Sì! Grazie a tutti.